Lord Shinnok è ormai finito. Presto la corruzione del Jinsei sarà irreversibile. Poi l'invasione potrà procedere. Raiden e i suoi alleati non opporranno resistenza. Una volta caduto il regno, la strada verso la vittoria sarà scombra. Avvisa Lord Shinnok che gli uni e gli orchi sono pronti. Al suo ordine li scateneremo sul regno della terra. Hai trovato il portale di Raiden per i Cieli? Sì, ma è protetto dai sigilli. Non ci passiamo. Questo è inaccettabile. Distrutto il regno della terra, dovremo completare la vendetta di Lord Shinnok. Invadere i Cieli e distruggere gli Dei Anziani. Venite. Muovere guerra ai Cieli? Se Shinnok abbatte gli Dei Anziani? Addio Universo, esatto. Kung Lao, vederlo in quello stato. Se non sistemiamo le cose finiremo nel regno occulto a mendicare. Andiamo. Takeda! Tua madre ti ha mai detto ciò che ho fatto ai suoi amici? Le ho uccisi in un battito di ciglia. Insieme a tua figlia. Ne vai fiera? Siamo legate nella morte. Ti unirai a noi. E ti darò un'educazione migliore. Sì. 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 Ma ora ti devo una. Me lo ricorderò. Sta indietro, principessa Pensi che le parole possano fermarmi? Grazie del supporto Quando vuoi In fretta, signore Ventilatore! No! Vuoi morire per prima? Così sia Molto più letale di dentro No! Ah! Oh! Wow! Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Diavolo. Giù le teste. Ci vediamo dall'altra parte. Assaporano la tua carne in profondità. Cresceranno dentro di te, mangiando le interiore. Per gli dèi. Prima il padre e poi la figlia. Avranno lo stesso sapore? Per gli dèi. Per gli dèi in prima pagina. Per gli dèi. 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 Tu sei l'insetto. io ho il parabrizza. ehi. 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 Cucciolotta. Sono vecchia per il cucciolotta. Sono vecchia per il cucciolotta. Per gli dèi. Così potrò sterminare tutta la sua discendenza. Se vuoi lui dovrai passare su di me. Sì. Così va meglio. Osserva, signorina Cage, mentre strappa la carne a tuo padre. Ecco ciò che ottiene chi mi sfida. Una morte atruce e squisita. Figlio di puttana! Merda, è davvero una dote di famiglia? Il potere di tuo padre non ti salverà. Non hai speranze di sopravvivere. No, no. No, no. No, noŽ. Go. Ma cagla! No, no, no o no! Voi, ti dava! Sì, 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 sì. Scassato da Cassie. Sei stata tu. Grande. Cassandra Cage. Mettimi nel Jinsei. Cosa? Non sei, ma ti ucciderà! Bisogna purificare. Presto! Cosa? 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 Cosa! Cosa? Cosa? Quella passeggiata Può attendere? Niente passeggiate Piscina Ombrellini nei drink Andata È vivo? Più o meno Lo aiuto io Vai da tuo padre E pensare che mi preoccupavo quando uscivi coi ragazzi Avevi paura trovassi uno come te? Divertente Bellissima E salva il mondo Ho fatto il mio lavoro Di qua Qui dentro Isolate Shinno Ketvora E serve un medico Ti aggiustiamo Ho già chiesto aiuto Avresti dovuto vederla Ci ha pulito il pavimento con Shinok Ci credo E tu? Ottimo lavoro con la tua squadra Johnny Hai sentito che Mi ha chiamato Johnny Te lo sei meritato Mi ha chiesto aiuto 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.